L'inizio, io ho iniziato, mi ricordo che avevo 7 anni. È tutta un'altra realtà, insomma, da dove cominci per poi arrivare appunto a questi grandi campi. Penso che un bambino sia una cosa indescrivita, mi sono a Porto che da quando è nato, tra virgolette vivo per lui. Può venire paragonata né da un gol, né da una partita di calcio, né da finale. Sono emozioni diverse, quelle sono cose che vanno al di là. Penso che è la gioia più grande che c'è, ti vedi passare tutta la tua vita calcistica che hai fatto fino a quel momento davanti. Capisci che stai arrivando a realizzare il tuo sogno. da una partita di calcio. Penassi, da una partita di calcio. Penassi, da una partita di calcio. di calcio. Penassi, da una partita di calcio. Penassi, da una partita di calcio. Penassi, da una partita di calcio. Grazie.